Buongiorno a tutti, bentrovati all'appuntamento con l'informazione delle 13. Ci apriamo con la cronaca perché i carabinieri di Tarvisio hanno messo a segno un importante sequestro di armi provenienti dal mercato clandestino. Si tratta di 12 pistole e 12 scatole di cartucce per un totale di 600 proiettili. Mercoledì, durante un normale pattugliamento alla barriera autostradale di Ugovizza, i militari hanno fermato una Fiat Grande Punto in ingresso nel territorio nazionale dall'Austria. A bordo viaggiava una coppia di napoletani, un quarantenne e una trentenne, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la criminalità organizzata e spaccio. I due hanno raccontato di essere rappresentanti di pentole di rientro da un viaggio di lavoro per le vacanze pasquali. Ma il loro pedigree ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo, anche perché a bordo non c'erano valigie e nemmeno pentole. La perquisizione ha permesso di scoprire 450 euro, ma la sorpresa più grande si nascondeva in un'intercapedine realizzata tra i sedili posteriori dell'auto, dove erano nascoste le armi e le munizioni, tutte poste sotto sequestro. I due sono stati denunciati per porto abusivo d'armi clandestine e relativo munizionamento. I carabinieri stanno continuando gli accertamenti per chiarire la provenienza delle pistole e a quali attività criminali fossero destinate. Tutti i dettagli dell'operazione sono stati raccontati questa mattina dal comandante della compagnia di Tarvisio, Robert Irlandese. Sentiamo allora l'intervista. L'autovettura è stata risultata subito sospetta in quanto cercava di sorpassare due auto articolati. Appena ha visto i militari, la pattuglia è in posizione, ovviamente è rientrata nella propria corsia e questo ha fatto scattare il fermo dell'auto. Adesso ovviamente verranno fatti degli accertamenti, degli accertamenti di rito. Chiaro, 12 pistole, 10 revolver, una semi-automatica, due semi-automatiche. Non è possibile dire al momento dove fossero dirette. Le due persone fermate vanno precedenti? Sì, entrambe precedenti. Il maschio, marito, quarantenne, delitti contro il patrimonio. La donna, trentenne, delitti contro gli stupefacenti. Ancora un colpo nella notte a Udine. Nel Mirino questa volta è finito il distributore Agip di via Monsignor Nogara. I malviventi, un uomo e una donna a volto coperto, hanno fatto un buco nel muro utilizzando una flex e si sono introdotti nel locale puntando direttamente alla macchinetta a cambio monete. Magro però il bottino. I ladri sono riusciti a rubare appena 3 euro. Il titolare si è accorto questa mattina del furto, ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno cercando di risalire agli autori. Incidente questa mattina a Gemona. Stava percorrendo la statale 13 Pontebana quando all'altezza dell'officina Auto Rossi, poco dopo le 7.30, ha perso il controllo del mezzo. Il camion che trasportava legname si è così rovesciato su un fianco. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente e anche l'autista non ha riportato conseguenze. Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità a lungo rallentata per consentire l'intervento dei mezzi meccanici e dei vigili del fuoco. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Gemona. Casi di scabbia sono stati segnalati all'ospedale di Cattinara a Trieste. La direzione generale della struttura informata ieri ha reso noto che i pazienti sono già in trattamento e non c'è alcun rischio né per le persone ricoverate né per il personale. Questa mattina la direzione sanitaria ha riunito urgentemente gli esperti dell'azienda sanitaria universitaria della clinica dermatologica e del dipartimento di prevenzione e malattie infettive per poter agire tempestivamente con tutte le misure previste e sono già stati avviati i controlli per il personale sempre in via precauzionale. I responsabili confermano che non ci sono rischi per i pazienti ricoverati perché la trasmissione della scabbia avviene solo tramite un contatto cutaneo prolungato nel tempo. Ci spostiamo a Monfalcone dove la comunità bengalese non rappresenta un problema per la sicurezza. A dirlo è il dirigente del commissariato di polizia Stefano Simonelli. La presenza di etnie, soprattutto quella bengalese e la seconda nazionalità, quella rumena, non desta particolare all'arma sociale. È una presenza molto numerosa, soprattutto quella bengalese. Si parla di circa 2.500 residenti e prevalentemente impiegati in attività legate alla cantieristica di Monfalcone. C'è una, come dato peculiare, c'è molta presenza sempre di bengalesi però che vengono anche da altre realtà, ma si tratta di una presenza momentanea, temporanea, che si aggira all'incirca sul mese, due mesi e comunque sempre legata poi all'attività dei cantieri. Non c'è un problema particolare, c'è un qualcosa di cronologico praticamente che è legato all'attività di spaccio di sostanti superfacenti, anche se è un'attività sempre di microspaccio. Viene fatta una sorta di analisi su quelli che sono i fenomeni in modo da concentrare poi un surplus investigativo per andare a intercettare, ovviamente ai fini preventivi, tutte quelle azioni che possono poi andare ad intaccare soprattutto i beni patrimoniali dei cittadini. Il bilancio 2017 dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia si è chiuso con un utile netto di 2.992.000 euro con un margine operativo lordo di 5.427.000 euro. L'eccellente risultato conferma la validità delle azioni attivate dal 2016 dal direttore generale Marco Consalvo e dal suo team, ha commentato il presidente dell'aeroporto Antonio Marano. Il Consiglio di amministrazione ha approvato anche la documentazione relativa alla gara europea per l'accessione di un pacchetto di quote pari al 45% e ha un'opzione per un ulteriore 10% esercitabile dopo la chiusura del terzo bilancio dall'entrata del nuovo socio e al conseguimento di determinati obiettivi previsti in gara. Data ultima per la presentazione delle offerte sarà il 6 giugno e il trasferimento delle azioni potrebbe perfezionarsi entro la fine dell'estate. Trieste Airport, ha sottolineato Marano, vuole diventare un modello virtuoso di gestione mista pubblico-privato che permetterà alla società, alla regione e al nuovo socio di accelerare sul percorso di sviluppo già intrapreso. Ci spostiamo a Gorizia dove nonostante la radicale potatura e la messa in sicurezza della scorsa estate non c'è stato nulla da fare per i tre cedri secolari piantati dietro al municipio dopo la prima guerra mondiale. Le piante sono state abbattute, un triste epilogo che cambia il colpo d'occhio al quale i goriziani si erano ormai abituati. È una giornata storica per Gorizia. Gli alberi che erano all'entrata del comune purtroppo devono essere abbattuti. Sono gli ultimi momenti di vita di questi monumenti che hanno dovuto essere abbattuti per la morte avvenuta a causa di un fungo. Sì, questa mattina abbiamo incominciato le operazioni di abbattimento dei cedri perché purtroppo sono stati colpiti da un attacco di un fungo che li ha uccisi nel corso degli anni. Abbiamo fatto di tutto per cercare di recuperarli, abbiamo speso anche un sacco di soldi ma questo killer dei boschi, perché di fatto è un killer questo fungo, non ci ha dato scampo. Era vero che erano considerati beni culturali e che la sovrintendenza si era un po' opposta al taglio? Sì, questo è un parco storico, quindi è soggetto, il parco del comune sto parlando, è soggetto alle leggi di conservazione dei beni culturali e quindi noi abbiamo dovuto avvisare la sovrintendenza di questo problema. Abbiamo aspettato quasi due anni un'autorizzazione al taglio, ovviamente condizionata, ci hanno dato tutta una serie di prescrizioni che noi seguiremo e quindi sì, effettivamente a tutti gli effetti erano dei beni culturali. Per quanto riguarda l'abbattimento, era proprio necessario abbatterli? Assolutamente sì, perché le piante erano morte, erano soggette alle intemperie, ai tutti quanti gli agenti patogeni che colpiscono le piante morte, quindi per una questione di sicurezza abbiamo dovuto abbatterli. Il legno che fine farà? Allora, noi abbiamo pensato di recuperare le piante, il legname facendo delle sculture, prossimamente faremo un bando, vedremo se ci saranno degli artisti, dei professionisti interessati e dopo vorremmo cercare di recuperare questo legno facendo un'esposizione di tipo artistico. Nel 1963 al Guggenheim Museum fu allestita l'esposizione Six Painters and the Object. Nasceva la pop art americana. Tra quei sei pittori c'erano artisti come Jim Dean, Roy Lichtenstein, Andy Warhol e James Rosenkist. A un anno dalla scomparsa, proprio a quest'ultimo è dedicata James Rosenkist, opere su carta, works on paper, mostra organizzata dal comune di Udine, civici musei e dall'ente regionale per il patrimonio culturale, che vuole ricostruire le tappe salienti del suo percorso artistico, focalizzando nello specifico la sua ampia produzione su carta. L'esposizione è stata inaugurata il 24 marzo a casa Carvazzini a Udine alla presenza della moglie dell'artista Mimi Thompson e della figlia Lily, in città proprio per l'occasione. Fino al 17 giugno, poi, nelle sale del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Udine, si potranno ammirare 35 opere dell'artista americano. Un ponte ideale tra montagna e mare, un abbraccio che un tempo si concretizzava lungo la via Giulia Augusta e che oggi non può che rinsaldarsi nel segno della cultura. Da domani, una parte del patrimonio culturale della Pinacoteca Enrico De Ciglia di Treppo Ligosullo sarà visitabile a grado. La Pinacoteca De Ciglia di Treppo Ligosullo è un piccolo gioiello che conserva una parte della produzione artistica dei più importanti pittori friulani e italiani del Novecento. Donata dal pittore nel 1975, negli anni si è via via arricchita con acquisizioni e donazioni. Resta un unicum in Carnia, e forse anche altrove, al punto che non molti la conoscono. Ed ecco che, anche per dare slancio al neonato comune Treppo Ligosullo, l'idea, già sperimentata nel 2004, è tornata molto di attualità. Ma ometto non andrà alla montagna, ma la montagna scenderà fino al mare. Una parte del patrimonio finirà in mostra a grado. Mostra diffusa si intende, visto che sarà ospitata nella Casa della Musica, ma anche alle Terme e negli hotel Astoria, Savoy e Hannover. Una contaminazione davvero unica per il centro gradese, che peraltro unisce mare e montagna sul tracciato della via Iulia-Augusta, e un'azione di promozione mirata per il paese montano, nel momento in cui le spiagge dell'Alto Adriatico scoprono il valore essenziale dell'entroterra come plus rispetto all'offerta estiva marina. L'iniziativa rivestirà particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio, dice il commissario di Trepoligo Sullo, Luigino Cortolezzis. Per noi questi progetti sono sempre proficui, gli fa eco l'assessore alla cultura di grado, Sara Polo, poiché ci permettono di instaurare rapporti tra le diverse realtà che possono arricchire entrambi e mettere le basi per future collaborazioni in ambito culturale e turistico. La vernice è prevista per sabato alle 17.30, mentre la mostra resterà aperta fino al 29 aprile, venerdì e sabato dalle 15 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ci spostiamo adesso a Forni di Sopra, dove domani sarà ufficialmente inaugurata la stagione per l'area faunistica parulana, con aperture speciali anche per il weekend di Pasqua. È uno dei luoghi tra i più belli in regione, immerso della natura incontaminata all'interno del parco delle Dolomiti Friulane. L'area faunistica parulana di Forni di Sopra inaugura la stagione 2018. L'apertura è fissata per domani. A partire dal scorso 1 marzo è la cooperativa PAVE, il nuovo gestore dell'area che riapre al pubblico con nuovi servizi e nuove proposte pensate appositamente per i più piccoli ma anche per gli adulti. In programma attività didattiche e tanti eventi a tema. Un'occasione unica per osservare la lince, uno splendido felino di medie dimensioni che vive in Friuli Venezia Giulia. L'area è stata progettata per permettere ai visitatori di osservare alcune specie faunistiche che in natura contano un numero esiguo di esemplari o che spesso hanno abitudini di vita notturne. Le zone dedicate agli animali hanno dimensioni adeguate sono state realizzate per garantire un alto grado di naturalità e la possibilità per gli animali di ripararsi in alcuni luoghi lontani da fonti di disturbo. Due sono i percorsi didattico-educativi. Il primo consiste in una passeggiata slow all'interno dell'area mentre il secondo approfondisce gli aspetti legati alla straordinaria biodiversità del sito. L'area faunistica farulana di proprietà del comune di Foni di Sopra oggi si sviluppa su una superficie di 5 ettere all'interno del parco delle Dolomiti Friulani dove possono essere osservati esemplari di lince, volpi, cervo e gufo. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta l'area faunistica farulana resterà aperta dalle 11 alle 17 con possibilità di ristoro. Con l'arrivo della bella stagione si riapre anche ufficialmente il calendario delle gare di corsa in montagna. Tra gli appuntamenti sempre molto attesi c'è anche l'International Sky Race della Carnia che quest'anno si presenta al Via con importanti novità. Manca ancora un po' di tempo ma vale la pena iniziare a pensarci, cercare un compagno e prenotarsi. L'undicesima edizione dell'International Sky Race Carnia ha presentato nei giorni scorsi una novità assoluta che permetterà anche a chi non ha tantissimi chilometri nelle gambe di poter partecipare a quella che ormai è una classica della corsa in montagna e che negli anni ha portato in carne a tanti campioni della disciplina. Il 17 giugno infatti sullo stesso percorso della Sky Race si disputerà anche la prima edizione della staffetta Sky Race Carnia. La squadra sarà composta da due atleti o atlete che percorreranno lo stesso tracciato della Sky Race suddiviso in due frazioni. La prima dalla località Laghetti a passo di Monte Croce Carnico per una lunghezza di 15 chilometri e un dislivello positivo di 1470 metri. La seconda da passo Monte Croce fino a località Laghetti con una lunghezza di 9 chilometri e mezzo e un dislivello positivo di 534. La proposta è indirizzata a coloro che non sono particolarmente preparati per le distanze medio-lunghe e che quindi in questo modo riusciranno tranquillamente a portare a termine la gara. Viene quindi eliminato il tracciato più breve di circa 20 chilometri che negli ultimi anni era stato proposto in alternativa a quello classico della Sky Race di 24 chilometri e mezzo. Sul nuovissimo sito della gara è già possibile iscriversi. Anche il Parco dell'Isonzo a Turriaco si prepara nel migliore dei modi alla stagione estiva. Vediamo com'è. Enrico Buglian qui a Turriaco nuova cartellonistica al Parco dell'Isonzo anche in vista della nuova stagione primaverile estiva. La nuova cartellonistica del Parco Comunale dell'Isonzo presenta il parco sotto una nuova luce uniforma tutta la grafica. Si parte con una cartellonistica a livello mappale che divide le tre sezioni del parco quella naturalistica, il sentiero Vita e la parte e l'area dei picnic. Poi ci sono le cartellonistiche di presentazione del fiume e della storia dell'Isonzo e infine una parte sulla flora e la fauna del parco. Questo è l'ultimo di una serie di interventi che sono stati svolti nel corso di questo mandato sul parco comunale con la spaltatura di Via Roma che è la via di accesso al parco e infine una serie di opere svolte direttamente dall'amministrazione comunale come la riqualificazione del percorso Vita tutta l'area giochi rinnovata una serie di installazioni artistiche e poi altre opere minori come l'introduzione della raccolta differenziata e quindi di tutti i raccoglitori di rifiuti dedicati qui sul parco dell'Isonzo. Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia Onlus organizza come ogni anno una serie di eventi in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo che si celebra in tutto il mondo il 2 aprile questa grave disabilità colpisce una persona ogni 65 con un forte impatto sociale grazie all'Autismo Festival 2018 l'associazione vuole portare l'autismo nel cuore di Udine in Piazza Libertà ricco il calendario delle iniziative dalla spesa solidale ai workshop passando per le mostre e il corso Autismo in Adolescenza in programma il 14 aprile nella sala convegni del centro Paolino d'Aquileia diversi poi i comuni che hanno aderito all'iniziativa Mi Illumino di Blu Tavagnaco, Trieste, Udine e Pagnaco accenderanno i riflettori su alcuni monumenti con il colore blu simbolo proprio dell'autismo 6 anni di lavoro 4.000 ore passate accanto all'antico altare celtico del SAS di San Belin questa la storia di Luciano Visintin cianela per i compaesani di Fogliano che punta al recupero dell'intera area naturale l'intervista integrale la potrete leggere nel settimanale Il Friuli in Edicola proprio da oggi Si tratta di oltre 4.000 ore di lavoro spalmate in 6 anni di sacrificio e tanto tempo ed energie dedicate a quella che ormai è diventata una vera e propria missione di vita Luciano Visintin ben conosciuto nel suo paese di Polazzo in comune di Fogliano e di Puglia come Cianela da anni ha preso a cuore la sorte del SAS di San Belin e di tutta la zona circostante antico altare celtico per decenni ha ospitato i giochi di generazioni di bambini di Fogliano e di Polazzo trovandosi prossimo alla via della Val l'antica strada di congiunzione tra il capoluogo e la frazione poi dismessa con l'arrivo delle macchine ora la missione come racconta il custode è recuperare la stessa Val aria ai piedi del Carso dalle forti potenzialità nel primo dopoguerra l'arrivo era stata utilizzata come poligono di tiro e fino agli anni 70 come discarica comunale un passato che non è facile da estirpare come l'enorme quantità di immondizia che ora con la costante e progressiva pulizia è tornata a farsi vedere un mare di bottiglie di vetro ma anche recenti copertoni come un'automobile ferma da oltre mezzo secolo tra le sterpaglie che nel frattempo hanno avvolto il materiale rendendone ancora più difficile il recupero e lo smaltimento prima di tutto è un'area tranquilla dove si potrebbe benissimo fare un piccolo parco giochi per i bambini e quant'altro e poi si potrebbe anche usufruirla eventualmente per fare delle manifestazioni di qualsiasi livello artistico o culturale diciamo sarebbe ideale perché è veramente un'area a mio avviso un piccolo paradiso Siamo allo sport è in corso la conferenza stampa di Mr. Oddo per la trasferta con l'Atalanta prima nella sala stampa del Friuli si è tenuta la presentazione della quindicesima edizione del torneo delle nazioni di Gradisca uno degli appuntamenti giovanili più importanti al mondo quest'anno ci saranno ben 28 nazionali con tornei di calcio maschile, femminile e futsal 19 le nazioni rappresentate dalla prima edizione ben 10.000 i calciatori che hanno preso parte al torneo riguardo invece all'impegno dei bianconeri a Bergamo potrebbe esserci una buona notizia per il tecnico con il possibile rientro di Kevin Lasagna tra i protagonisti dello straordinario mese di dicembre restano però tante assenze a centro campo Mr. Oddo ha detto purtroppo questi problemi capitano devo pensare a ottimizzare al meglio le risorse che abbiamo usando i giocatori sani non intendo perdere la mia positività andiamo a giocare questa partita durissima con tante difficoltà ma la speranza di poter fare qualcosa di buono c'è e poi Oddo ha aggiunto i moduli sono numeri ci saranno 5 difessori in campo se l'Udinese piange non va tanto meglio invece agli avversari perché Josep Ilic rischia di saltare proprio la sfida contro i bianconeri e adesso è invece il momento di cedere la linea a Marco Virgilio per le previsioni del tempo Buongiorno a tutti tempo piovoso tempo umido d'altro canto siamo interessati da una circolazione depressionaria che ha ormai i suoi minimi a ridosso del Golfo di Biscaglia sulla Manica insomma in questa zona pilota questi vari fronti che si succedono e poi il minimo si sposterà proprio nella giornata di domani sul centro nord Italia dando un ulteriore incremento alle precipitazioni soprattutto tra la tarda sera di oggi e la mattina di domani andiamo a vedere dunque la giornata in corso con il cielo nuvoloso sulle parti più meridionali tra nuvoloso e molto nuvoloso con deboli piogge andando più all'interno le piogge saranno un po' più consistenti soprattutto sull'alta pianura ma comunque moderate diciamo dove pioverà di più sarà come sempre la fascia prealpina in particolare e in particolare proprio la zona delle giuglie possibile anche qualche rovescio qualche locale temporale la quota neve invece è parecchio alta diciamo sopra i 1500 metri ma diciamo ben sopra i 1500 metri venti meridionali con qualche rinforzo da sud lungo la costa e allora andiamo a domani apparentemente non cambia tanto ma in realtà tra la tarda sera di oggi come vi dicevo vi anticipavo e la mattina di domani ci sarà un'intensificazione delle piogge fino a intense sulle zone prealpine comunque abbondanti anche sulle Alpi e abbondanti anche su tra pianura e costa localmente certamente un po' meno naturalmente visto che sono esposte a questi venti da sud e sud ovest che sono moderati per cui diciamo è chiaro che il massimo della piovosità l'umidità viene trasportata a ridosso dei rilievi e la troviamo proprio sulle prealpi le temperature non cambiano molto la quota neve dovrebbe restare tra i 1200 e i 1600 metri poi dipenderà perché probabilmente dell'aria leggermente più fresca entrerà a partire dalla Carnia quindi sarà un po' diversificata la situazione tra zona e zona i temporali i rovesci e possiamo andare a vedere invece cosa ci aspetta a più lungo termine in realtà ormai Pasqua e Pasquetta sono dietro l'angolo e ancora comprese fra queste due linee bianche ancora abbiamo un basso rischio di precipitazioni qualcosina potrebbe esserci a Pasqua molto più basso ancora il rischio a Pasquetta ma è interessante vedere che poi abbiamo un rialzo della temperatura che significa che si avvicina probabilmente un'altra depressione eccola qua potrebbe portare delle piogge a partire dalla metà della prossima settimana quindi adesso dopo queste piogge una pausa e poi altra acqua eccola qui la situazione di domenica qualche pioggia residua tra la notte e la mattina soprattutto sulle zone di sud-est della regione poi invece abbiamo questa variabilità anche con il sole però nel pomeriggio non è da escludersi qualche locale rovescio temporale sulle prealpi ma forse anche sulle zone più interne della pianura lunedì tempo buono o discreto diciamo perché ci sarà un passaggio tra il poco nuvoloso e l'irregolarmente nuvoloso quindi giornata caratterizzata da nubi parziali con temperature tra 4 e 16 gradi ma rischio pioggia estremamente basso martedì anche una giornata buona con punte fino a 17 gradi vedete anche lo zero termico che risale per effetto proprio dell'area un po' più umida che si avvicina e poi le possibili nuove piogge da mercoledì prossimo io direi che per questo per il tempo in corso è tutto però naturalmente seguiteci anche sul sito di Telefriuli e oggi è venerdì quindi stasera appuntamento da non perdere commette weekend alle 19.45 parleremo dello stato ambientale della nostra regione un po' visto da tutti da tutte le angolazioni quindi dall'aria dall'acqua e da tutti gli aspetti che lo compongono quindi appuntamento a stasera vi saluto allora arrivederci a dopo più tardi l'informazione termina qui vi ricordo che il telegiornale tornerà come sempre questa sera alle 19 grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata